Grazie a tutti. Ancora un'edizione, la finita edizione, impegnarsi che da ora perché questo ci sia. Ai ragazzi, ecco, dei fumenti poi in questo mondo giovanile è particolarmente interessante, ho preso le poesie, insomma, l'espressione del fumento secondo me è un po' che dicono l'infresco per i partecipanti. Sì, sì, grazie. 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 Grazie.